Tra gli obiettivi dei sette anarchici arrestati a Roma dai carabinieri del ROS c'era anche quello di portare solidarietà con atti di terrorismo agli imputati del processo per la bomba di Capodanno 2017 alla libreria Il Bargello. Anche in questo caso c'è una bomba a innescare le indagini, è quella che esplose una settimana dopo, quella di Firenze alla stazione carabinieri di Roma San Giovanni e rivendicata dalla sigla terroristica cellula Santiago Maldonado. L'ordigno artigianale 1,6 kg di esplosivo occultato in un termos di metallo aveva provocato ingenti danni all'ingresso della caserma e per poco non aveva investito con la sua esplosione una passante. Il gruppo composto da Claudio Zaccone 33 anni, messinese, Roberto Croppo 34 anni, torinese, Flavia Di Giannantonio 39 anni, romana e Nico Aurigemma 30 anni, anche lui romano, con Francesca Cerrone 31 anni e trentina avrebbe mirato poi a riorganizzare il movimento anarchico, superando ogni localismo per avviare una nuova fase dell'insurrezionalismo che avvicinasse diversi gruppi così da colpire l'organizzazione democratica e costituzionalmente organizzata dello Stato. Nel progetto gli arrestati volevano sostenere gli imputati del processo cosiddetto panico con numerosi atti terroristici compiuti in diverse località del territorio nazionale, dalla Spezia a Roma, passando per Firenze e Teramo, tutti finalizzati a portare solidarietà agli anarchici coinvolti nel processo fiorentino, manifestazioni di protesta, danneggiamenti, incendi e diffusione di documenti istigatori, reati in una specifica strategia di lotta all'esterno del carcere.